Non è difficile, di più, dai, no, non ce l'ho fatta, mancavo un secondo, no, non è, no, 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 mi sono buttato senza il coso, stai scherzando? Ti fa sembrare lui, il creatore, che ce lo puoi fare, poi in realtà, oh, e poi ce lo puoi fare, oh mio dio, ci sono riuscito, banzaiiii Enderpearl, spara al villaggiero con l'enderpearl, devo tirare al villaggiero l'enderpearl? Ok, non sarà facile, probabilmente non sarà facile, però secondo me se mi prendo una bella rincorsa, ce la posso, eh sì, ciao, è vero che questo è l'1.9, se ti muovi le cose vanno giù, ok, 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 abbiamo capito Ce l'avevo quasi fatta, ok, molto bene, non dobbiamo far altro che mirare un pochettino più in alto, così Anche questa volta quasi, ancora un po' più in alto e ancora un pochettino più vicini, quindi così Mandaggia, ancora un pochettino di più, 1 ora e 10 di registrazione, signore e signore, e ce l'abbiamo fatta, molto bene, shulker challenge Arriva fino a, in cima senza morire Ah Ah, eh vabbè, allora intanto moriamo perché già ho perso tantissima vita Ok, quindi signor shulker, mi porti su per favore, andiamo, ta 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 ta, bene, bene, sono superman, sto volando, sto volando No, però no, non mi devi prendere di nuovo perché sennò mi fai malissimo, mi fai male, mi fai tanto male Aia, una volta, una volta basta, una volta basta e avanza, ehi basta, basta prendermi Aia, che dolore, che dolore, fanno malissimo questi shulker ragazzi Io devo salire fino in cima, quanto c'ho? C'ho ancora 4 secondi, ok, questo va bene Dai, no, 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 se mi prendono di nuovo muoio, se mi prendono di nuovo muoio palesemente C'ho 3 secondi e muoio, e non rigenerano la vita poi, ma dai, non è giusto Come faccio? Ma non si può fare questo livello Ma questo livello è pazzia Questo livello è sparta Vai, fammi volare, fammi volare Dai, cucciolo di shulker, che cosa aspetti? Ok, bene, 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 eh, però non due volte Una volta è basta, ora basta, ora basta, ora basta, papà No, 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 ok Ha sparato una bomba completamente fuori portata Non mi ha preso, aia, mi ha preso stavolta, mannaggia Ok, 8 secondi, di nuovo mi ha preso Ci sono dei pulsanti? Ma io non li avevo mica visti questi pulsanti, a che servono? Cos'è? Ah, mi danno rigeneration, no, 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 datemi tutta la rigeneration che volete Vi prego, continuate, continuate così Ok, ah, con i pulsanti che ci vuole allora Ma dai, con i pulsanti è facilissimo Ma io non li avevo mica visti prima Eh, basta però, mi stanno prendendo a pugni qua Ehi, basta, lasciami stare Lasciami, lasciami, 5 secondi Dai, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo Se mi faccio colpire un'altra volta, ragazzi, ce la faccio Ok, molto bene, dobbiamo arrivare fino a Lassù, senza morire, possibilmente No, basta, ho detto basta Ho detto basta, lasciatemi stare Lasciatemi stare, sono Terminator Vi ammazzo tutti se mi toccate ancora una volta Ok, dai, no, 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 non è giusto No, dai, ero lì Ce l'ho riuscito Oh mio Dio, oh mio Dio, sono mezzo quale No, 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 dammi tutta la regen Dammi la tutta, 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 tutta Mi serve regeneration, mi serve, mi serve, mi serve Ok, non ne posso prendere ancora, non fa nulla Adesso dobbiamo soltanto prendere le botte dagli shulker Che mi porteranno avanti per qualche altro secondino No, tu mi lasci stare, ok Adesso invece mi devi riprendere Dai, prendimi Bene, bene, bene 8 secondi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta, questa volta ce l'abbiamo Questa volta ce l'abbiamo in tasca, ragazzi Altri 8 secondi Oh, basta, ehi Adesso, no Non si fa così però, shulker Non si fa così Io fino allo sopra clicco Io clicco Io clicco Ok, un altro secondo di regen Bene No, tu mi hai bloccato Mannaggia, stupido shulker box Che ti sei aperto al momento meno opportuno Aia, che dolore Fanno malissimo Fanno malissimo, ragazzi Mi picchiano Aia Basta Basta Perché? Che vi ho fatto? Vi ricordo qualcuno che mi ha picchiato da piccolo Ok, adesso ci siamo, ragazzi Ci siamo, adesso ci siamo Questa è la volta buona Me la sento Aia, no, 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 no Non in tre, eh Non mi pigliate in tre Perché sennò qua non me sento proprio nulla Non mi sento Aia, che dolore Fanno male ragazzi che non avete idea Aia Ah, basta Basta, basta, basta C'ho due cuori C'ho due cuori Lasciami stare Non mi attaccare, non mi attaccare Non mi attaccare Schifoso shulker Quattro secondi Ce la posso Mannaggia, mannaggia, mannaggia Ora continuiamo a schivarli Bene Abbiamo cinque secondi Un'altra volta mi devo fare prendere Qualcuno mi prenda per favore Uno solo Uno solo No, 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 no Ero alla fine Ce l'avevo quasi fatta Ero riuscito a schivarli tutti quanti Come un vero spadaccino Professionista Ora basta Ora non mi potete prendere più Più, 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 più Mai più Anzi, un'altra volta Per favore, un'altra volta Prendimi Ok, bene, bene, bene Questa è la volta buona Questa è la volta buona Questa è la volta buona No Era Questa me la sento la volta buona Mancano quattro secondi L'ultima volta Prendimi l'ultima Prendimi l'ultima Per favore Ok Bene, 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 bene Dai, 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 dai Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì, 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 sì Sì, sì, sì Ce l'ho fatta Ok, cosa dobbiamo fare Stai sotto i blocchi Devo stare Oh Oh, ma dai Ma non è Facile Non si può fare sto coso Ok, si può fare Forse si può fare Devo fare altro che Ah, ho capito È un serpentino Devo stare sotto il serpentino Dobbiamo fare così Poi così Poi così No, 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 no Ok Sembra, ragazzi Sembra più facile di quel che in realtà è Vi posso assicurare che non è per nulla Facile Ah, ma no Ma mi basta non sprintare Se io non sprinto Lo finisco Facile, facile Ah, però finisce la levitation Ok, questo non lo sapevo Quindi in qualche modo devo sprintare Magari nelle parti facili Nelle parti facili Tipo questa Sprintiamo Dai E dammelo il tempo Due secondi in più Magari, eh Nota positiva Almeno c'è un checkpoint Quindi non devo ogni volta rifare tutto quanto da capo Giusto? Eh, almeno questo Dai, 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 no, 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 senza volare via Perché voli via? Sapete cosa? Io ora cado qua E mi pilla un checkpoint Ma certo che me lo prendo Che sono scemo io? Che sono scemo? Vai, pigliati Pigliati Dai, devo cadere perfettamente Non ce la faccio Nel frattempo, ragazzi Io sto registrando da un'ora e ben trenta minuti Vi rendete conto di cosa significa Un'ora e trenta minuti di registrazione? Probabilmente no Perché non avete mai registrato per così tanto tempo E quindi non sapete Quanto vorrei finire questa mappa io adesso Cioè, proprio Non c'è mappa che voglio finire Di più Di questa in questo momento Vai bene Checkpoint preso E adesso Mannaggia i livelli in cui devi lievitare Non sono mica una pizza Io non devo lievitare Ok Va, 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 va 188 morti, ragazzi Sono tante Sono tante in una mappa del genere 188 morti Credete a me Credete al vostro imperatore Kendall, ragazzi Mannaggia Ho capito come farlo Ok Questa volta, ragazzi, non sbaglio Questa volta non sbaglierò di certo Mi posso assicurare che questa volta Ce l'abbiamo In tasca Non devo fare altro che fare un bel salto qua E poi No, mannaggia L'ho mancato Dai Dai Sì, 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 sì Ce l'abbiamo fatto Un altro Ce ne sta un altro Dove devo andare Oh, no Io aspetto, eh No, 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 no Io aspetto Intanto spero di aver preso un checkpoint Io aspetto 29 secondi ora Perché non esiste Anzi Mi ammazzo Dai, proviamoci Dimmi che mi ha dato il checkpoint Ok, me l'ha dato Bene Ah, un labirinto Oh, mio Dio Devo fare un labirinto con l'evitation Ma stai scherzando? Ti prego Dimmi che c'ho qualche secondo in più Dimmi che c'ho Sì, ce l'avevo C'ho qualche Oh, c'ho un bel po' di secondi in più Mio Dio Sette secondi Ce l'abbiamo fatta Ok Parkour con mezzo cuore Ma che ci vuole? Eh, vabbè Sono già morto Quasi Io ho fatto tante di quelle mappe Con mezzo cuore Che ormai sono diventato Un maestro professionista E quindi riuscirò a fare anche questi Forse Ma dai, raga Questo non è nulla Al confronto di quelle mappe Che io ho già fatto Sapete bene Che io sono diventato un maestro In queste cose E per quale motivo c'ho Se me lo tolgo Non succede nulla No, non succede nulla Ok, così Piano piano Senza farcire il male Ora devo atterrare lassù Questo è un pochettino Più difficile forse Va bene Però c'è un altro Ci abbiamo un checkpoint Poi così Aia Aia Perché brucio? Ma non ho senso Ero sulla soul stand Perché brucio sulla soul stand? Non lo so Però ce l'abbiamo fatta Ok, checkpoint Bene, bene Il livello dei cactus È facilissimo Perché non mi sto mai zitto? Mai Una volta soltanto ci devo stare zitto Ovvero quando Quando devo stare zitto Dai, dai, dai Ok, ci prendiamo l'altro checkpoint Perfetto C'è il checkpoint? Certo che c'è il checkpoint E adesso cosa devo fare? Devo Arrivare Qui? Uh, ci sono tante pressure plate Chissà quale di queste Sarà veramente una trappola E quale no Quella è sicuramente una trappola Bene Corri, 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 corri Wow, wow, wow E ora? No Cosa? Come lo supero quella parte? Devo essere scaltro Come una faina Va, 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 va Ok, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Bene Adesso? E ora? E ora? Ho paura Ma? Cosa devo fare allora? Ah, ma c'è un pulsante Quindi io devo schiacciare quel pulsante Ok L'ho fatto Oh mio Dio Ci sono riuscito No, 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 no Io questo non lo so fare Io il livello delle litre Non lo so proprio fare Oh mio Dio Ok, proviamoci Ecco Bene Bene, bene, bene Iniziamo proprio bene, bene Perché io non riesco a volare con le litre? Ma sono l'unico imbecille che non ce la fa? Sono l'unico imbecille al mondo di Minecraft Che non ci riesce Però io non ci riesco Più forte di me È più forte di me Ma soprattutto se provo a fare No, eh Ci sono i blocchi visibili ovviamente Mica sono scemi Mica sono scemi Wow, wow, wow Troppo veloce, troppo veloce Ragazzi, io ci sto Vi giuro, ce la sto mettendo tutta, eh Io ce la sto mettendo tutta a non barare Ma qua è veramente dura Qua è dura la situazione, eh Non è semplice per un nabbo con le litre Come me Non è per nulla semplice Soprattutto quando ti mettono la speed Ma che è giusto che ti mettono pure la speed A un certo punto, eh È giusto, vi sembra giusto a voi? A me non sembra giusto A me non sembra proprio giusto Comunque Kendall non si arrende mai O almeno ci prova Io ci provo a non arrendermi e a darvi il buon esempio Ma non è sempre facile A certe volte hai voglia di arrenderti Ma poi che sono ste manie Che c'è il creatore della mappa Di fare le gare Prima con la barca Poi con questi anelli Ma che è? Mario Kart Stiamo giocando Questo è Minecraft Creatore della mappa È Minecraft Non è Mario Kart Ci riuscirò io un giorno a imparare a utilizzare l'Elytra Ma no che non ci riuscirò Ma non si può Non si può proprio L'Elytra è la Nemesis di Kendall Ragazzi Lo sappiamo bene tutti quanti Oppure Kendall e la Cobblestone Kendall e i Silverfield Ci sono tante cose ragazzi Che Kendall odia Ma nulla più dell'Elytra L'Elytra è proprio La cosa che Minecraft ha aggiunto Che più io odio in assoluto Per quale motivo? A che serve? A che serve? Se proprio voglio volare Io mi butto da Non lo so Da una montagna Oppure mi metto la GameMod Non mi serve l'Elytra Per volare Non mi serve l'Elytra Per volare Mannaggia questo schifoso Gegio Che ti fa volare Io ancora non ho imparato 295 E ragazzi ve l'ho detto 296 Ok Altre 4 E poi basta Altre 4 E basta Io ci ho provato Mi dispiace ma è più forte di me ragazzi Non mi interessa Mi potrete chiamare anche Pappamolle Chiamatemi come volete Però vi ho dimostrato Che non mi sono arreso Fino all'ultimo ci ho provato E poi ragazzi È impossibile È impossibile Non è che posso stare qua fino a domani mattina Eh no Mi dispiace Ma se io non ci riesco Non ci riesco Ultima L'ultima L'ultima prova L'ultima 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 Volete vedere che mo ce la faccio Mo con l'ultima prova ci riesco Volete vedere Ma no che non ci riesco Ma non ce la posso fare mai E infatti non ce la posso fare mai Però Sono arrivato lontano Adesso semplicemente Per curiosità ragazzi Lo ammetto Non ho finito la mappa Non ce l'ho fatta Però per curiosità Mod è vedere la fine Della mappa Game mod 1 Ok Vediamo sta fine benedetta Perché ragazzi Muoio pure in game mod Muoio pure Allora Come vi dicevo ragazzi Voglio soltanto vedere La fine della mappa Solo per curiosità Lo ammetto Non sono riuscito a finirla È troppo complicata È troppo difficile per me E wow Addirittura È cosa che fa Mi dà la speed per caso Probabilmente sì Probabilmente mi dà la speed Guardate quanto continuo ancora Se ciao Io non ce l'avrei fatta Mai nella vita A finire questo livello Vi posso assicurare È la mia debolezza Peggiore Provare a fare Le mappe Con l'elitra E non ce l'avrei mai fatta Probabilmente però Le cose Pure le trappole Pure le trappole Pure il buio Sì Vabbè allora E dirlo allora Che volevi che io Non la finissi mai Dillo A questo punto Abbiamo finito Non ci credo Era questa Era l'ultimo livello Era l'ultimo livello E non siamo riusciti a finirlo Però non mi importa ragazzi Perché ho portato un video Di due ore Probabilmente diviso In due parti Perché altrimenti Un video soltanto Con tutta questa roba È da uscire pazzi Soltanto per editarlo Voi mi raccomando Lasciate un bel mi piace A questo video Condividetelo con tutti Quanti i vostri amici Lo so Ho fallito Ma non mi importa Spero comunque Di essere ancora nei vostri cuori Spero di essere Il vostro imperatore preferito Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao